Per le festività natalizie del 2022 l'editoriale Cosmo ci ha fatto un regalo prezioso, pubblicare il primo volume della Nick Carter Story, ovvero la colta cronologica e completa delle storie di Nick Carter di Bobby. Visto che in questo primo volume c'è una storia natalizie, la mia idea sarebbe quella di leggervela, proprio come i classici fumetti in tv. Nick Carter Story, la notte di Natale. Mentre le prime omre della sera scendevano su New York, una bianca coltri di neve ammantava la città, sembrava una notte come tante altre, e invece era la notte di Natale. Insomma, pazzi, sull'albero di Natale devi appendere gli appositi ornamenti e non quello che piace a te. Ma capo, il mio mitra è più bello! Uffa, sbrighiamoci a fare tutto prima di mezzanotte, non vorrei che all'arrivo di Babbo Natale ci fossi ancora la casa in disordine. A me piace tanto Babbo Natale, l'anno scorso mi ha anche portato un lecca-lecca a lunga durata, che leggo ogni tanto nei momenti di intimità. Slurp! Crash, patapang, splat! Dice il saggio, se non smetti di leccare ti puoi anche fare del male. Silenzio, c'è qualcuno che cerca di entrare dalla finestra. Pronti a far fuoco, uomini? Che si tratti di un lebre natalizio? Non sparate, mi arrendo! Per mille fulmini, Babbo Natale! Ma Babbo, come mai così in anticipo? Noi ti aspettiamo a mezzanotte. Ehm, urgenti impegni mi chiamano altrove. Allora ho preferito iniziare in anticipo il mio solito giro. Oh, che bello! Mi ha portato un altro lecca-lecca intimo, Babbo! Ehm, no, ecco quattro regali a sorpresa per i miei carini Carter Pazzi e Ten. Beh, io devo andare. Buonanotte, buon Natale. Aspetta, non ti fermi a mangiare con noi una fetta di panettone? Sicuro? È la nostra tradizione, non ricordi, Babbo Natale? No, quest'anno il panettone non mi piace. Non ho fame e poi ho già bevuto il caffè. Quante storie, non farei timido, Babbo. Adesso stai qui con noi mentre apriamo i regali. No, i regali no, li dovete aprire quando io me ne sono andata. Oh, che bello! Una scatola sorpresa, chissà cosa c'è dentro. Chichi! Un babà, oh che simpatico! Urca, non ti sembra un regalo un po' pericoloso letto, Babbo? Uffa, com'è difficile aprire il mio. Urca! Dice il saggio, se non sto un poco attento ce li metto pancia e mento. Mmm, il mio regalo fa tic-tac. E una sveglia. Ma che sveglia, Babbo Natale, dei miei stivali? Questi regali sono stati fatti allo scopo di attentare alla nostra vita. Ma come? Non riesco a crederci un così caro vecchietto e per di più il Babbo di Natale. Ma che Babbo? E poi Natale? Non avete ancora capito che costui non è altro che Stanislao Muglinski, il nostro implacabile nemico, in uno dei suoi famosi travestimenti. Ebbene sì, dannato caro, mi hai zamascherato ancora una volta. Ed ora, dannato criminale, confessa. Dov'è il vero Babbo Natale alla quale tu hai rubato i vestiti? Allo scopo di rifilarci i mortiferi negali natalizi? Legato sul tetto... E' vero capo, è proprio là, legato e imbavagliato come una mortadella. Presto, uomini, andiamo a liberarlo. Forse facciamo ancora in tempo a permettergli di andare a distribuire i suoi doni. Ho ho ho, per farla a Anny Carter, non bastano tre autentici conigli pasquali, figuriamoci un falso Babbo Natale. Modestamente, è proprio quello che penso anch'io. Dice il saggio, buon Natale a tutti! E l'ultimo, distribuischi i regali! A Natale poi!